Amici di Monolite Notizie, siamo tornati al Teatro Comunale di Colleferro, il Vittorio Veneto, per un altro spettacolo in cartellone. Si intitola Falstaff e le allegre comari di Windsor, di William Shakespeare, e la compagnia è capitanata dall'attore Edoardo Siravo. E poi vedremo in scena altri 13 attori e attrici. Ma prima di tutto mettete un cuore su questo contenuto e condividete i contenuti di Monolite Notizie con un cuore. Vi do poi appuntamento al 13 aprile alle ore 21 e ci sarà Cristicchi sul palco. Adesso però venite con me. Amici di Monolite Notizie, si è appena concluso uno show travolgente e abbiamo qui il maestro Edoardo Siravo che ha condotto questa squadra di 13 artisti con acclemazione del pubblico qui a Colleferro. Uno spettacolo veramente avvincente, tratto dal famosissimo testo di William Shakespeare. L'allegre comari di Windsor, sì sì sì. E soprattutto Falstaff. E soprattutto Falstaff perché Falstaff è il titolo dell'opera di Verdi, tratta dalle allegre comari di Windsor di Shakespeare. E però qui c'è un mix, ma il vero protagonista effettivamente è Falstaff, è questa commedia meravigliosa. Allora, si è divertito sicuramente il pubblico? Lei quanto si è divertito ad interpretare questo show meraviglioso? Guarda, io mi diverto tutte le sere, nonostante poi ci siano sempre un po' di stanchezza, mi riesco da un'influenza tremenda, quindi è sempre un po' faticoso ricreare le condizioni ottimali con il pubblico. Però devo dire che quando si creano, e qui in questo caso si creano molto spesso, il divertimento è totale, giochi proprio, come dicevano i vecchi attori, si gioca con il pubblico e questo è molto bello, io addirittura l'ho scelto in qualche momento, sentire il pubblico, vado in mezzo, quasi in mezzo a loro. La stavamo aspettando, a un certo punto la stavamo aspettando, durante una fuga. Sì, è vero, è vero, è vero. Comunque, insomma, e qui la cosa molto bella è queste donne che si prendono la vendetta sugli uomini così un po' arroganti e questa è anche una bella morale che funziona di questi tempi. Attualissima, vero maestro? Sì, sì, sì. E poi mi ha fatto piacere venire a Colleferro, zona che io amo moltissimo e che vi devo dire, speriamo di tornare presto con altri spettacoli altrettanto divertenti e che funzionano così col pubblico, perché la gioca, si sta un po' dimenticando il teatro di prosa, fanno one show, cose, resi, tal cosa, invece una compagnia di 13 persone in scena riescono a fare, se riescono a ottenere questo successo attraverso un testo bellissimo e ce ne sono tantissime. Quanto è attuale. E poi un testo attuale, questa cosa qui, ecco, questa sarebbe la cosa più bella e più importante e così noi preserviamo questa cosa meravigliosa che è il teatro. In cui c'è uno scambio, in realtà il pubblico stasera partecipava, rideva, si alzava. Certo, questo è la gioia del teatro, dai tempi di Plaudo, dai tempi dei grandi autori greci, Aristofane, la commedia ma anche la tragedia possono essere dei motivi di scambio e di sensazioni buone per il pubblico. Questo è, secondo me, il teatro fa bene all'anima. Noi tutti andiamo in palestra, ci facciamo le cose per il nostro corpo e andiamo a teatro per tutelare la nostra anima. E tra l'altro qui al Vittorio Veneto di Colleferro c'è una stagione strepitosa, no? A due passi da casa. È verissimo. Ci sta, i miei amici della TCL fanno delle cose molto belle. È uno dei circuiti più virtuosi d'Italia dove si prendono commedie non in base soltanto a scambi, più o meno, insomma, ma si prendono proprio per la qualità e per dare in modo al pubblico di vedere ancora del bel teatro. Grazie mille, Mel. Grazie a voi, sono felice e spero di tornare presto. Ne aspettiamo. Grazie, ciao. Miau.